ma quante italie conosciamo noi possiamo scegliere quale italia essere grazie per cui inizio osservazioni il successo del bar e centenni approvato l'elenco dei segretori congetti e assenti per il carico del senato perché ulteriori comunicazioni all'assemblea saranno pubblicati nella legazione a resoconto della sicurezza di me perché non c'è più lavoro perché le aziende al nord chiusono ma come fai a parlare così che non sei bombola di Casper Famiglia da 15 kg 45 non rompere i coglioni a me perché a me non mi rompi i coglioni tu perché con me con me che sono tre anni ha commesso il reato più grave che si poteva fare è il momento di decidere se essere noi stessi o accontentarci dell'immagine che ci vogliono dare questo momento è quello di ripartire ripartire nell'unico modo che conosciamo ripartire nell'unico modo che ci vogliono dare ripartire nell'unico modo che ci vogliono dare ripartire nell'unico modo che ci vogliono dare ripartire nell'unico modo che ci vogliono dare